Vinitaly 2019, siamo nel padiglione Veneto e siamo venuti a trovare l'azienda Fabiano. Io sono con Alessandro che ci presenta l'Amarone. Oggi è una giornata speciale perché il nostro Amarone è stato anche premiato dal Vinitaly dal concorso Five Star Wines con 90 punti. Si tratta di un Amarone che per noi è storia perché la nostra responsabilità è principalmente quella di mantenere alto il livello qualitativo. È un'etichetta che ha una storia di oltre 50 anni quindi non dobbiamo toccare nulla se non garantire il livello qualitativo elevato che da anni stiamo cercando di garantire ai nostri consumatori. Noi facciamo 30.000 bottiglie di Amarone storica e 6.000 bottiglie della riserva. Ma voi fate ovviamente anche un altro classico, il Valpolicella ripasso. Esatto, per un target giovane, diamanti del vino che possono anche permettersi di bere più di una bottiglia a tavola perché non si tratta di un vino così forte, così impegnativo quanto l'Amarone. e che quindi consente insieme a Lugana ad esempio e ad altri vini veronesi di organizzare una buona cena con vini di fascia media e non troppo impegnativi. Quindi freschezza, frutto e piacevolezza. Ricordiamo che chi vuole assaggiare la linea di Fabiano, la Valpolicella ripasso e l'Amarone in particolare li trovate sull'e-commerce del vino 65. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.